Siamo arrivati su circa alle 9 e finalmente, finalmente ci siamo, data attesissima perché è il mito, perché è il mito e non si può non esserci dopo tutto quello che è successo, dopo essere stati richiusi in casa, ricominciamo a vivere, finalmente ricominciamo a respirare buona musica e che sia una festa non stop. Io penso che mi sono trasferito a Valencia, però già da un anno ho preso il biglietto, quindi primo lavoro ho detto no, devo andare a vedere Vasco e sarei della zona, però ho detto no, devo andare, primo concerto in vita mia, quindi sarà una figata. Io invece sono dal Venezuela, ma mi piace Vasco lo stesso. Io l'ho un po' trasmesso io, la mia ragazza. Io sono il fratello, sono di stagione qua, è un muro da qui, ero da una vita che volevo venire al concerto e finalmente ce l'ho fatta, insomma. Io vengo invece dal Veneto e fin da bambino ho sempre nato Vasco, il mio primo concetto è stato a cinque anni, quindi non potevo essere di nuovo qua. Noi veniamo da Brindisi. Bari per Vasco! Sempre! Unico! L'uomo più semplice che c'è! Sono l'uomo giusto per te! E qui Lecce! Bari! Ok, ciao! Io sono qua al concerto di Vasco Rossi, amo le Dolomiti, ci vengo spesso, soprattutto l'estate scorsa e non penso di avere altro da dire. Chiedimi qualcosa! Chiedimi qualcosa! Chiedimi qualcosa! Grazie a tutti.